Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati nel canale! Come avrete letto dal titolo oggi creo una WSCO Girl che non so come si pronuncia quindi iniziamo benissimo e soprattutto parlerò per tutto il video dato che mi viene richiesto spessissimo Innanzitutto per chi non lo sapesse vi spiego cosa è questa tipologia di ragazze WSCO o Vasco, Vesco non lo so come si pronuncia è un'app molto buona di post produzione fotografica per cellulari e tablet ed è caratterizzata da ottimi filtri, alcuni a pagamento ed altri gratis La WSCO Girl non è altro che una ragazza che segue un determinato stile spopolato su quest'app Diciamo che sono le ragazze Tumblr di questa generazione ma ora vi parlo un po' delle cose base per essere una Vasco Girl Innanzitutto abbiamo due cose principali ovvero gli scrunchies che sono elastici molto grandi e colorati che le Vasco Girl utilizzano sempre per i loro outfit li potete comprare da Pull&Bear oppure su Amazon nei pacchi da 50 il prezzo di solito varia dai 3 ai 25 euro ovviamente più sono più costano e normalmente si portano ogni capelli oppure al polso come bracciali Seconda cosa importantissima sono le Hydro Flask ovvero borracce e sono il simbolo principale di questo stile tutte ne hanno una solitamente vengono acquistate con colori molto accesi tipo rosa, azzurro o altro e ovviamente non possono mancare gli stickers amano fare acquisti back to school, quindi cartoleria e per la scuola utilizzano strumenti pastello come evidenziatori, pennarelli e penne colorate gli evidenziatori si trovano in cartoleria oppure su Amazon dove è possibile acquistare un pacco con evidenziatori, penne, pennarelli, pastello a 12,99 euro su una marca Stabilo oppure ancora, sempre per quanto riguarda la scuola utilizzano quaderni sempre decorati con scritte, colori, immagini ritagliate e incollate sulle copertine inoltre sono molto ordinate con gli appunti e tendono ad evidenziare e rendere gli appunti più chiari Per quanto riguarda le penne utilizzano solamente penne colorate di molti colori vivaci alcuni per esempio sono metallizzati come per esempio la penna color argento oppure quella oro e con queste penne di solito realizzano disegni abbastanza carucci sui quaderni e sui loro diari Passiamo ora a un'altra categoria ovvero quella lì degli accessori per esempio utilizzano orecchini molto particolari e principalmente sono cerchi o perle sulle orecchie di ogni ragazza ci sono tra 1 e 9 buchi tutti occupati da questi meravigliosi ciondoli i bijoux dei bracciali che le Vasco Girl utilizzano molto sono specialmente conchiglie si possono portare al collo ma solitamente si portano anche al polso potete acquistarle in spiaggia oppure sui mercatini ho notato che questa tipologia di ragazza è praticamente fissatissima con la skin care precisamente non so tutti i passaggi che va a fare spero possibilmente faccia i passaggi giusti però una cosa che ho notato in quasi tutte le foto è che il prodotto fondamentale per la skin care è praticamente il tonico di Mario Badescu oppure non so se sono lozioni non so bene comunque so che sono di Mario Badescu che potete trovare da Sephora, Beauty Bay e altri rivenditori comunque online trovate senza problemi per quanto riguarda la nostra sim ho deciso di realizzare ben 5 outfit i miei preferiti sono il primo, il secondo e l'ultimo e mi raccomando ricordatevi a fine video di scrivermi nei commenti quali sono gli outfit che vi sono piaciuti più ah e dimenticavo soprattutto mi piacerebbe sapere tanto se tra di voi c'è qualcuna che utilizza questo stile devo dire che per quanto mi riguarda mi piace molto infatti prima ancora di scoprire questo stile ho acquistato dei capi che senza farlo apposta utilizzano queste Vasco Girl per esempio ho la t-shirt celeste trasparente con gli angioletti che ha spopolato tantissimo sul web oppure ho un paio di scrunchies che utilizzo praticamente da una vita sin da quando ero piccolina ovviamente non ve lo sto nemmeno qui a dire non sono gli stessi oppure ancora utilizzo alcuni dei loro accessori come i ciocchi elastici la collana di conchiglie, gli orecchini a cerchietto e tra qualche giorno mi arriveranno anche i fermali per capelli con le perle diciamo che non so realmente se avrò il coraggio di uscire con questi fermagli però la cosa sicura è che li utilizzerò molto sia nei video che nelle foto su Instagram e a tal proposito mi raccomando ricordatevi di seguirmi su Instagram lì sono ancora più attiva di YouTube quindi se volete scrivermi e chiedermi qualcosa sappiate che su Instagram rispondo molto molto velocemente come sempre ovviamente vi ricordo che scarico tutti i contenuti personalizzati da Pinterest nella mia playlist di The Sims 4 trovate il video in cui vi mostro e vi spiego tutto per bene quindi tutti quanti i passaggi mi dispiace per chi ogni volta deve risentire questa spiegazione però raga vi giuro mi arrivano ogni giorno domande su The Sims anche se spiego in quasi tutti i video come fare varie cose e una cosa che devo assolutamente dire per chi non è pratico di computer o magari è più piccolino è che The Sims 4 è un gioco e non un'applicazione potete acquistarlo nei giochi che vendono giochi per PC, Playstation e quant'altro quindi principalmente GameStop oppure acquistarlo online dal sito ufficiale di Origin io vi consiglio di acquistarlo dal sito perché c'è un notevole risparmio infatti è ciò che ho fatto io raga vi lascio giusto un paio di minuti alla realizzazione degli outfit con la musica in sottofondo perché ovviamente devo tener conto che anche a molti e molte di voi piace ascoltare la musica che inserisco solitamente mentre realizzo i sim quindi vi lascio scritto sullo schermo il minuto preciso in cui rinizio a parlare 3, 2, 1, a 3 eee Grazie a tutti 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 Grazie a tutti